Buongiorno dalla Rassegna Stampa ad inizio settimana con 6.9.6 TV 8 Channel, l'apertura delle pagine nazionali e regionali, la prima di Repubblica tanta politica, ovviamente sui quotidiani non troverete la notizia triste di questa mattina, la scomparsa a soli 60 anni di Fabrizio Frizzi con il mondo della TV nazionale sconvolta. La Repubblica, Lega e 5 Stelle, duello sul Premier, le pensioni sono il primo scoglio, Berlusconi, Mai di Di Maio con Palazzo Chigi e poi secondo i conti dell'Unione Europea rischiamo una Fornero Bis. L'immagine poi al centro Pugemon arrestato in Germania, rivolta a Barcellona, l'ex presidente catalano Karls Pugemon è stato fermato ieri in Germania, oggi comparirà in tribunale per l'estradizione, è sempre ieri la notizia poi da Barcellona che migliaia di persone sono scese in piazza in sua difesa. Parla la talpa di Facebook Christopher Wilde, lo so Cambridge Analytica aveva un cliente italiano. Dalle pagine interne la politica nazionale, la Lega, in carico al centro-destra, Premiership e duello con i 5 Stelle, Grillo Sudogan è leader interleghista, un uomo di parola, cosa rara, ma per la guida dell'esecutivo Di Maio non molla, Salvini pronto a giocare il nome di Giorgetti, Berlusconi pietra d'inciampo del patto per i 5 Stelle, è indigeribile. Anche la foto centrale per Silvio Berlusconi, l'intervista di Repubblica a Toti, non trattare coi grillini sarebbe antidemocratico a destra, un partito unico, Forza Italia si è scolorita, il carroccio ha vinto le elezioni perché ha trasmesso un messaggio, proprio quello che oggi manca a noi. Nella foto, governatore, neopresidente, l'incontro ieri a Genova tra Giovanni Toti, presidente della Liguria, e Elisabetta Alberti Casellati, neopresidente del Senato. Pagina 3, Berlusconi, Salvini, governi con chi ci sta, ma Di Maio non può essere il Premier. Lega al governo senza Forza Italia, Matteo sarebbe il leader di un partito del 17% che si allea con uno che ne vale il doppio. Il programma è chiaro, i grillini collaboreranno o vogliono tornare al voto, non c'è un opaleghista su Forza Italia, no al partito unico. Proseguendo, fronte 5 Stelle, Di Maio mosse per l'accordo, cade il reddito di cittadinanza, ma l'umore tra gli elettori, il blog boccia l'intesa con Salvini, dal nord stesso segnale al carroccio. Il pontiere Giorgetti ha una misura universalistica, siamo contrari a un sostegno orientato alla ricerca di lavoro, no. E poi l'immagine è la colazione da vincitori nell'albergo con vista sui fori per i pentastellati. L'intervista a De Masi, il patto con la rega è contro natura, è rischioso, l'elettorato 5 Stelle è più volatile, comprendo che Di Maio tenga le carte coperte, il reddito di cittadinanza vero è per tutti, non soggetto ai controlli che selezionano il diritto. E poi, conti pubblici, pensioni, emergenza spesa, l'Europa chiederà una stretta per Commissione Unione Europea e Fondo Monetario, serve un intervento sui costi entro il 2020, più che abolire o allentare le leggi attuali si rischia una fornero bis o tagli all'assistenza. Il commento dell'ex sottosegretario Brambilla, il lavoro per la Lega, possibile un intervento definito chirurgico e la ragioneria e il governo hanno criticato questo scenario, ma Bruxelles tira dritto. Ancora riflessi politici, Giancarlo Caselli alla guida del Senato, chi ha insultato la magistratura libera, la biografia di Casellati rievoca le vergognose leggi ad personam, non può farmi piacere che vengano premiate quelle posizioni. Parlare di Giancarlo Caselli, nato ad Alessandria a 78 anni ed è magistrato in pensione dal dicembre 2013, nel corso della sua carriera è stato procuratore di Palermo e di Torino, si è occupato a lungo di inchieste sul terrorismo, bricate rosse, prima linea e di lotta alla mafia. Presidentessa, no, chiamatemi Presidente, preferisco essere chiamata così, lo ha detto ieri Elisabetta Alberti Casellati, prima donna alla guida del Senato lasciando il Teatro Carlo Felice di Genova dove ha assistito all'opera La Rondine di Giacomo Puccini, diretta dal figlio Alvise. In più, l'Università dei Ministri a 5 Stelle tramalta il Cepo e la vecchia democrazia cristiana, fondata vent'anni fa da Vincenzo Scotti con l'ex PC Consoli e promossa dall'ora Ministro Zecchino, adesso ai vertici dell'Ateneo, tanti rapporti sempre profigui con la politica. Dialogo o Aventino e due partiti dem, il fondatore Parisi, salita di sesto grado. Giacchetti in bilico tra risorgere ed esplodere tutte le tematiche riguardanti il Partito Democratico, Verini vede un partito triste, guarda al Papa, il rischio rissa su capigruppo e vicepresidenze. Maurizio Martina, ospite, ha in mezz'ora con Matteo Renzi sullo sfondo. L'intervista ad Ettore Rosato non si può trattare con chi pensa ai dazzi e guarda a Putin. Il PD è un figlio che ha preso solo i difetti dei genitori. Marilu Chiofalo, assessore comunale di Pisa, l'intervista serviva all'organizzazione dei DS e la leggerezza della Margherita. Invece abbiamo eliminato le sezioni spingendo le persone sui social. L'origine del danno è la sparizione dei luoghi. Come risponde ai bisogni senza un posto dove farlo? Ma le soluzioni complesse sono impossibili in assenza dei corpi. E poi la politica internazionale con riferimento alla Catalogna, alla Spagna con l'arresto in Germania. Puggemon è caso europeo, oggi dal giudice se si oppone entro 60 giorni la scelta sull'estradizione. E c'è un reato tedesco simile a quello spagnolo di ribellione sulle proteste, migliaia in piazza a Barcellona. Tutti i riferimenti del caso e poi l'intervista. Così Cambridge Analytica si è insinuata anche nella politica italiana. So con certezza che ha fatto qualcosa da voi, anzi siete l'unico paese europeo di cui sono certo a parte. L'Unione Regno Unito, ma non so per quali partiti. Lo sport. Ieri mattina il successo della Ferrari in Australia, più lenti ma primi, Vettel e l'arte Ferrari di cogliere l'attimo. La vittoria a Melbourne decisa dalla strategia dei box all'ingresso della Safety Car, Hamilton spiazzato. Come è successo per una falla nel suo software? Il commento di Vettel, nel 2017 ci sono state tante gare in cui la fortuna è andata contro, questa ce la prendiamo. Sergio Marchione invece commenta, non poteva esserci un inizio migliore. Il riconoscimento più bello per la squadra. In più i maghi del Moretto, un miliardo di dati per ribaltare i GP. Ecco come lavorano, nello specifico gli ingegneri. Il commento invece di Lewis Hamilton, come è potuta accadere questa cosa? Dobbiamo rivedere le nostre strategie. Poi ancora le attese della Nazionale verso il nuovo match in amichevole contro l'Inghilterra a Wembley. Con gli attaccanti bloccati da sei mesi, una maglia per Belotti al posto di Immobile, il gol. Chi lo ricorda di Biagio, il reggente, cambia mezza Italia negli esperimenti del Neo CT. Comunque traghettatore a quanto pare. Europei 2028, la tentazione che incide sui nuovi stadi per rilanciare il movimento. La federazione progetta di avanzare a settembre la propria candidatura. Servono impianti da almeno 30 mila posti, ma oggi si tende a ridurre le capienze. Poi John Foote, Balotelli. Merita un'altra occasione. Fu un vero errore storico fare ventura commissario tecnico. I risvolti che arrivano anche dall'Inghilterra. Prime tematiche regionali che apriamo con Repubblica. Napoli, niente scuola per quei bimbi non vaccinati. Madonna assunta, la decisione della preside. I genitori degli esclusi ricorrono al Tar. Nell'immagine, l'ossessione Mertens. Napoli con la Juve è una finale. Ma dall'interno i risvolti anche politici legati alla neo elezione alla Camera. Arriva Grillo ad Aversa, Fico, Selfie in stazione. Sono commosso anche l'ipotetica convergenza di De Magistris. Vediamo tutto nel servizio. Mentre il Movimento 5 Stelle esulta, Luigi De Magistris mette da parte tutti i conflitti politici con i 5 Stelle e fa gli auguri al neopresidente napoletano della Camera, Roberto Fico, e dice è anche un successo della nostra terra. Al di là del cammino diverso degli ultimi anni, conosco Fico da prima che entrasse in politica e credo che questo risultato sia importante anche per Napoli. Ma non è solo campanilismo. Il sindaco lo dice per un motivo ben preciso, per rimarcare una certa assonanza con la politica antisistema tra Dema e 5 Stelle. Ora un altro voto di rottura. Mi fa pensare ad una continuità con forme e contenuti diversi, dice De Magistris. Insomma, un tentativo di aggancio, chiarissimo quello del sindaco, che si potrà misurare subito. Chiederemo a Fico e ai parlamentari un incontro per un modo diverso di intendere le istituzioni. Primo obiettivo, manco a dirlo, la battaglia per il debito CR8, l'incubo di De Magistris. Mi auguro che Napoli venga considerato come un interlocutore. I tentativi di avvicinamento tra Dema e Grillini in realtà si registrano già alla vigilia delle elezioni, quando era ormai chiara la vittoria dei pentastellati. Ad accomunare peraltro i due movimenti, quello arancione e quello giallo dei pentastellati, anche la contrapposizione forte con il governo regionale di Vincenzo De Luca. Dall'altra parte però i Grillini, forti del risultato, dopo aver mandato a De Luca un chiaro avviso di sfratto dalla regione Campania per le prossime elezioni, lanciano un'opa anche sul comune di Napoli, quando però De Magistris avrà concluso la sua esperienza a Palazzo San Giacomo, sottolinea Matteo Brambilla. E' il caso che emerge invece dalla città, cantieri l'ombra della corruzione, lavori in via Marina, in centro, in via Nicolardi, l'ipotesi fatta dal PM è stabile rapporto imprenditori-funzionari comunali, tre gare nel Merino, spunta la sparizione di 300 mila euro di basolato poi rivenduto, indagati pronti a replicare alle accuse. Festa Man, il catalogo è questo, Elio racconta e canta l'opera Buffa, il calcio, l'urlo di Mertens, ora lo scudetto, il belga in ritiro con la sua nazionale, parla solo della sfida con la Juventus, a Torino sarà la nostra grande finale, ci giocheremo tutto allo stadion, il mio obiettivo è essere al top della forma in queste ultime nove giornate. Andiamo anche con le tematiche nazionali dal mattino, premiera a noi, tratto con i 5 Stelle, l'intervista a Matteo Salvini, serve una scossa per il Sud, ministeri anche a Napoli, il leader della Lega pronto a cambiare il programma, maturo un sistema federale, la Carfagna no al partito unico. In più, premiera al centro-destra, serve una scossa al Sud, Salvini sia a modifiche al programma, trattiamo anche con i 5 Stelle, nessuna spaccatura, vinceremo ancora compatti in Friuli e Molise, l'agenda modifica alla Fornero, meno tasse e immigrati la priorità, mentre per la flat tax al Sud sarà decisiva. Pagina 3, la retroscena, mosse per il governo, ora tutti cercano il PD, Lega e 5 Stelle guardano i dem con motivi opposti, Matteo Renzi all'Unione Europea, voluto il commissario agli esteri, io chiederò l'agricoltura o il commercio. proseguendo ancora con le tematiche nazionali, Forza Italia, la rabbia del Sud, comanda Salvini, ci siamo suicidati. Asse Lega 5 Stelle, il rischio di deriva nordista nel partito cresce, il disagio dei meridionali, capigruppo, spinte per Carfagna alla Camera, serve un segnale di svolta, è la proposta che arriva dalla Regione, noi responsabili no a partito unico, Carfagna e il Cavaliere a salvaguardato, il centrodestra, niente veti da Di Maio, in troppi si stanno prodigando nel celebrare i funerali di Forza Italia, il partito invece vivo e vegeto, capigruppo, nel partito lacerato e resa dei conti, Silvio Sismarca, stavolta decidono i parlamentari, per Rusconi non ha gradito gli sfoghi degli uscenti, cambia metodo, in pollo il ticket al femminile, Gelmini Bernini, in più, 5 Stelle, base delusa, Di Maio rilancia, metodo vincente, i militanti bocciano l'accordo su Casellati, Grillo, uomo d'onore, Salvini è di parola, il leader grillino è convinto, in ogni caso il movimento sarà centrale nelle scelte. E la svolta, prove d'intesa, Laboratorio Sicilia, ora Musumeci, apre ai 5 Stelle, maggioranza risicata e divisa, il governatore cerca l'aiuto grillino, in vista del bilancio per la Regione, capigruppo, poi il PD si spacca sul ticket dei Renziani, Guerini, Marcucci, minoranze in fermento, il regente Martina fa il pompiere, serve unità, i diritti, l'EU torna la carica sullo Ius Soli, e poi stop a correnti, è giù dall'Aventino, altrimenti rischiamo l'irrilevanza, il Veltroniano Verini, sulle camere abbiamo perso un'occasione, il partito è ferito, ma serve reagire. Pronto a colpire nella capitale, caccia un tunisino, lettera l'ambasciata d'Italia a Tunisi, scattano subito le misure di sicurezza, allarme e terrorismo, e le indagini a tarda ora, fonti ufficiose indicano la presenza dell'uomo nella capitale africana. Qui c'è Mon preso in Germania a scontri a Barcellona, il leader catalano rischia fino a 30 anni, oggi dai giudici tedeschi, nei Tafferugli, 4 arresti, 87 feriti, in più scarichi abusivi nei reggilagni svelati dai radar, blitz in un'azienda agdricola, relazione trasmessa in procura dalla guardia costiera, il focus, l'obiettivo è trasformare la zona tra Pozzoli e Giuliano nella Romagna del Sud, l'analisi, il masterplan della rinascita che non risolve tutti i problemi, di progettazione al via e il piano varato dalla regione. Andiamo anche ora con i dettagli provincia per provincia, da Napoli la max inchiesta sulla Movida, minacce, lesioni, omissioni, episodi inquietanti del by night al baio dei PM, a Bagnoli, auto contro un corteo di manifestanti, la procura a caccia dei responsabili, scattano i sigilli alla mela dall'interno, minacce, lesioni e omissioni, Movida, maxi, inchiesta al via, auto contro un corteo, dispositivi dei giudici inapplicati, ecco i casi più gravi, il Tribunale ha imposto interventi per evitare frastuono, ma i lavori sono al palo. La mela, folla da record, nella notte il sequestro, troppe persone, 150 più del massimo, denunciato il responsabile, Vodka e minorenni denunce, segnalazioni per la chiusura dei locali. Inutile l'ordinanza sulla Movida, mancano le sanzioni, va cambiata, c'è polemica quanto previsto e non attuato, il Presidente dichiaria a De Giovanni, con il bel tempo torneranno caos e pericoli. Due aggressioni e un incendio doloso, poi le chat, noi padroni del vomero, quattro arresti, ecco le accuse, rogo in un condominio e le risate, poi su Facebook. Sanità, ospedale del mare al palo, emergenza in tilt tra caos e ritardi, dal Cardarelli al San Paolo, mare di Barelle, medici insufficienti, semaforo rosso alla rete del 118, capacità ricettiva ormai satura. La salute ai nodi, San Paolo al collasso, i medici sono in fuga, l'anestesista siamo allo stremo, pazienti penalizzati. Andiamo anche con la prima del mattino riferita alla provincia Irpina, comunali ora si fa sul serio, il centrosinistra cerca un candidato per il capoluogo e spunta Luigi Pasquale, la notizia in alto, il calcio, un pari da salvezza per i lupi, ma ancora allarme infortuni, basket, la Siligas regge per un tempo, poi cede alla corazzata Milano. Acqua, l'Irpinia soffre gestori verso la fusione, dossier di Invitalia, problemi diffusi di inefficienza e il distretto alto calore con ACUPI e Gesesa, unica strada. E poi le amministrative, lo scenario, un medico per curare il centrosinistra, in città i demitiani sondano nomi da proporre a PD, alleati, dopo Rosato e Bellizzi. Ecco Pasquale, dettagli dal servizio. Prove di ripartenza per il centrodestra e il centrosinistra in provincia di Avellino. È tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta del 4 marzo, ma anche di riammaiare l'interlocuzione con la gente in vista delle nuove scadenze elettorali. Al circolo della stampa, l'ex segretario provinciale del PD, Carmine De Blasio, ha chiamato a raccolta i suoi compagni di partito. Oggi abbiamo l'occasione per aprirci, ritornare sui territori, quello che presi da esasperato renzismo non abbiamo più fatto. Lo dico con chiarezza, tutti devono fare un passo indietro, il fondo non è stato ancora toccato. Che fare? Ripartire dalle ragioni del PD, dall'ascolto e dalla condivisione. Al Viva Hotel, analoga iniziativa organizzata da Primavera Irpinia di Sabino Morano a dare il suo contributo ai lavori anche Nunzia De Girolamo, esclusa eccellente del nuovo Parlamento, che ha tracciato la rotta per vincere le prossime amministrative nel capoluogo irpino. Ritengo che esista un'altra Italia, un'altra Forza Italia fatta di persone che hanno radicamento sul territorio, che conoscono i problemi della gente, la vita reale, che ascoltano i cittadini e di queste persone io vorrei essere interlocutrice anche perché penso che Forza Italia se non vuole essere liquefatta dall'OPA partita da Salvini e dal Movimento 5 Stelle deve rigenerarsi e rinnovarsi. Questo deve accadere anche ad Avellino dove non ci dobbiamo trovare impreparati come è spesso accaduto a causa delle gestioni scellerate del partito sul territorio sia a livello provinciale che a livello regionale e nazionale e dobbiamo essere pronti per quel momento sapendo che il centro-destra deve essere unito. In provincia di Avellino sigilli al discount del sesso il blitz dei carabinieri nell'abitazione in periferia cade a Santo Stefano del Sole la 33enne partenopea praticava tariffe low cost denunciata e allontanata. Il calcio la diga derisio di tacchi una barriera che vale il pari risultato di 0-0 a Bercelli per l'Avellino non sto bene Gavazzi inconsolabile dopo il nuovo KO da valutare anche le condizioni di Radu Morero e Falasco l'affetto dei rifusi del nord il basket solo contro tutti Fesenco tiene in vita la Sidigas ma senza aiuto deve arrendersi se Indiae non rientra sarà impossibile affidarsi ai soli Laval ieri assente e Zerini la resa arriva da oltre l'arco 1 su 4 non va il 25% di realizzazione da 3 tra le peggiori prestazioni della stagione eccezione solo per Scrab andiamo con Benevento monumenti e musei sotto attacco sfregio alla rocca scritte spray sul torrione Ricci non alzeremo bandiera bianca pagine interne Piana Romana il sentiero dello spirito dopo la visita di Papa Francesco accelerazione per l'iniziativa dei frati percorso con via Crucis spazi di meditazione alle spalle della chiesa dell'Olmo monumenti sotto attacco a Benevento scritte spray alla rocca deturpato il torrione Ricci non alzeremo bandiera bianca Soget presto l'elenco dei 178 morosi irriveribili altra Benevento la commissione finanze contraria all'audizione presentiamo il nostro dossier poi l'acqua Irpinia soffre gestori verso la fusione dettagli che emergono anche con il sannio da Caserta la prima riferita a San Leucio bel vedere discempi devastate porte ambienti ristrutturati le erbacce invadono lo scalone monumentale il restauro incompiuto e tradito nei locali il rifugio di teppisti e clochard danni alle aziende agricole pronti gli aiuti del ministero nel 2017 la siccità ha mandato in fumo 110 milioni di produzioni il disastro di un anno fa San Leucio il bel vedere dello scempio gli spazi dell'info point trasformati nel bivacco dormono clochard spesso a fuoco i rifiuti porte rotte finestre diverte murale sosceni nella sala accoglienza e le dimissioni del sindaco Velardi che scuotono il PD a Marcianise arriva la secretaria Tartaglione il caso all'attenzione dei vertici nazionali la scelta la decisione irrevocabile ma al primo cittadino tante le telefonate di solidarietà processo per diffamazione a Ferrillo Di Maio e Grillo attesi ad Aversa convocati come testi d'accusa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord riferimento ancora a Caserta a Casal di Principe troppi evasori il comune rischia un altro default Natale abbiamo abbassato Tari e Imo ma continuano ad esserci contribuenti furbi l'assessore al ramo ce la stiamo mettendo tutta ma i cittadini devono collaborare Salerno con la prima Cinica salernitana che batte il Novara con Tuia nella foto salvezza che appare ormai in cassaforte quarto risultato utile consecutivo davanti allo titolo e mezza Roma e giovedì c'è la corazzata Empoli in turno infrasettimanale relativo anticipo per la Pasqua scandalo Asl intercettati manager rimborsi milionari per prestazioni gonfiate così funzionari pubblici favorivano i centri privati eccolo anche nella seconda pagina riferita a Salerno il caso milioni ai centri privati per prestazioni gonfiate tra i 39 indagati manager Giordano e Lungo dettagli dal nostro servizio L'intero vertice aziendale dell'Asle di Salerno è coinvolto nell'inchiesta sullo sforamento dei tetti di spesa assegnati dall'Asle ai centri privati convenzionati operanti sul territorio in tutto sarebbero 39 quindi gli indagati secondo gli inquirenti della procura di Salerno le somme assegnate dalla regione Campania per l'acquisto di servizi di riabilitazione diagnostiche ed altro sarebbero state gestite in maniera illegale favorendo alcune strutture private convenzionate al posto di altre in alcuni casi stando all'impianto accusatorio si sarebbe arrivati a sforare il tetto di spesa fino al 40% oltre il dovuto ricavandone anche vantaggi personali e patrimoniali coinvolto nell'indagine come è noto il direttore generale Antonio Giordano il direttore amministrativo Antonella Tropiano e quello sanitario Maria Vittoria Montemurro ma anche i vertici precedenti figura infatti tra gli indagati pure Antonio Squillante già manager dell'Asle in quota centrodestra e persino Federico Pagano poi defunto tra gli indagati anche una suora della congregazione suore salesiane del Sacro Cuore la quale avrebbe ottenuto stando a quanto contestato dalla procura aumenti considerevoli rispetto alle somme dovute fino a sfiorare anche i 40.000 euro per il centro salernitano con sede in via Vitolembo secondo una prima approssimativa stima il denaro versato illecitamente ai centri convenzionati sfiora alcuni milioni di euro circa una ventina i centri convenzionati finiti sotto la lente di ingrandimento della procura allarme per una scuola rischio crolli al Da Vinci chiuso un intero piano niente lavori e l'emergenza diventa permanente come al Profagri al Tasso e all'artistico quasi dalla scuola e poi la città la polemica che arriva con le pagine interne del Luca contro il programma Rai Salerno offesa puntata dedicata al capoluogo in onda ieri sulla terza rete squadrismo mediatico definito così dal mattino e poi furti in casa i banditi puntano a Torrione impronte di mani sui vetri cresce l'alarme tra i residenti stanno arrivando da noi la sicurezza e le bande dei topi d'appartamento si spostano dai rioni collinari segni dei sopralluoghi su balconi e finestre il calcio forza 4 Salernitana festa muta con Lotito e Mezzaroma concreti e rabbiosi come Colantuono ma niente calcoli playoff si guarda semplicemente per ora alla salvezza niente tregua giovedì sera trasferta contro la corazzata Empoli e senza Pucino l'imperatore Claudio negli spogliatori dopo il match ora togliamoci qualche soddisfazione da qui alla fine del campionato chiudiamo anche con il sito 8pagine.it la rassegna stampa le tematiche dal nostro sito web privacy condizionati e spiati come salvarsi dopo lo scandalo di Facebook arrivano le nuove norme europee e basterà la domanda che si pone ovviamente 8pagine.it da Montella Puc nel Merino o altre indagini della procura che ha chiesto una proroga delle indagini nel Merino alcune destinazioni d'uso da Napoli pestarono i ragazzi scampia nei guai la baby gang le indagini e poi bordelli con bambole sexy un successo male femministe video parte la pulizia delle spiagge in base dai dischetti milioni di pezzi sul litorale volontari al lavoro per salvare le coste è un'attività titanica se si considera che sono milioni di schetti fuoriusciti dal depuratore parolato di capaccio pestum e finiti poi in mare la nuova crociata di De Luca cari burocrati userò la spada il governatore avverte il comune di Salerno voglio una città che sia uno specchio da Napoli ancora le slide muore a 15 anni addio Anna forte bellissima guerriera vietati agnelli scoiati in vetrina vederli a molti fa male si schianta contro un trattore con lo scooter muore a 16 anni tragedia da Cerra Pasquale Morgillo la giovanissima vittima tornava all'istituto professionale russo di Cicciano a bordo del suo scooter quando si è scontrato contro un trattore per motivi da accertare Salerno e le slide la nuova crociata di De Luca cari burocrati userò la spada web privacy condizionati e spiati come salvarsi la crema spalmabile alla nocciola la regina dei chocolate days ad Avellino dubbi scandone Eurocup e mercato all'orizzonte Montella Puc nel mirino altre indagini della procura Provercelli Avellino le pagelle del match e poi il commento la cronaca di Avellino Milano 75-82 giocata ieri al Pala del Mauro Benevento scritta con lo spray sulla rocca imbecilli e vandali del commento che arriva e poi De Girolamo fondo associazione per rilanciare Forza Italia l'ex deputata riunirò le migliori energie della società della cultura e dell'imprenditoria sempre da Benevento con le slide emergenza criminalità arrivano i carabinieri del CIO auditorium distrutto l'app comune lo ha lasciato ai vandali ultimo sguardo anche su Caserta scontro tra ultra pensione prepartita un bus di tifosi del Lecce si è ritrovato davanti all'ingresso dei tifosi locali Casertana che ha battuto il Lecce in casa qualche momento di tensione a Caserta nelle tre partite di Serie C tra Casertana e Lecce quando un gruppo di tifosi pugliesi a bordo di un pullman ha sbagliato strada rispetto al resto del gruppo composto da quasi 800 supporter arrivato con un bus e mezzi propri secondo quanto riferisce la questura di Caserta i fan giallorossi sono giunti davanti all'ingresso principale dello stadio dove ci sono i settori dei tifosi locali non hanno fatto il giro più lungo per arrivare in via Laviano dove è ubicato il settore ospiti a quel punto sono scesi e si sono trovati accerchiati dai fan locali scontro che è stato evitato grazie all'intervento delle forze dell'ordine che hanno fatto risalire subito i tifosi ospiti sul proprio mezzo è tutto dalla Touch per la rassegna stampa ringrazio in regia Michele Orciolo e vi ricordo gli appuntamenti con informazione alle 11 ancora touch 8 pagine punto it alle 12 il TG Flash Avellino a dopo Grazie a tutti